di fare il meglio possibile. Grazie. La ringrazio. A questo punto mi pare di capire che l'onorevole Molteni accedeva alla possibilità di partecipare al Comitato di Nove. A questo punto quanto tempo c'è bisogno? Che sia un tempo congruo e non prolungabile ulteriormente? A mio avviso 20 minuti sono sufficienti. 20 minuti. Riprendiamo alle 12.15 con la preghiera di evitare ulteriori richieste di allungamento. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.